Per la nostra commemorazione la parola a tutti ma per noi è sempre importante anche per ricordare un'altra figura importantissima per la storia. Dicevo molti forse dubitavano che sarebbe stato necessario ancora oggi con questo Papa così anticlericale celebrare questo 20 settembre così come altri magari pensavano che proprio perché su alcune cose in particolare sulla difesa dei tepoli dai rifugiati ai detenuti c'è una tale concordanza con il Pontefice che magari gli stessi radicali non avevano bisogno di celebrare questo 20 settembre. Invece credo che di motivi ce ne sono e ce ne sono anche tanti. Innanzitutto è bene chiarire una cosa, non c'entra in questo caso nulla avere l'idea che questo Papa Francesco rappresenti un'operazione di marketing furba della Chiesa oppure l'idea opposta che il Papa rappresenti invece un tentativo vero di rivoluzionare questa Chiesa in senso tra virgolette anticlericale. Abbiamo avanti Leonardo Moneco con la nostra prima prima Leonardo, Leonardo Moneco che è tesoriere dell'associazione Certi Diritti. Iniziamo con un grazie Papa Francesco, un grazie Papa Francesco che qualche anno fa ha abolito per Castolo, certo che io per quanto mi riguarda mi terrei bene la Laga, anzi Dio che per lui ci salvi dell'ordinamento penale italiano, io ricordo il caso del maggiordomo di Papa Ratzinger che era appeso al filo del perdono di un capo di una monarchia assoluta. Io direi grazie per questo giubileo della misericordia, anche qui io personalmente schiverò per un anno tutte le assoluzioni possibili. Grazie perché magari riusciremo a scoprire qualcosa in più sullo Stato di attuale assenza di concorrenza che figge nel sistema alberghiero in Italia, grazie a degli aiuti di Stato conferiti sotto forma di esenzioni fiscali agli immobili ecclesiastici. Grazie perché in fondo chi è lui per giudicare e per inserirsi nel dibattito politico decidendo come le persone dello stesso sesso possono o non possono vivere appieno la loro vita di coppia o di famiglia. Tante voci radicali che hanno detto quali sono le nostre battaglie, hanno usato anche la terminologia che noi siamo soliti usare, per esempio quella della genuflessione preventiva automatica. C'è ovviamente in questa città, in questo luogo, in questa giornata anche un crocevia di tante battaglie radicali. Abbiamo visto arrivare radicali camminando per quei diritti, certi diritti di cui abbiamo parlato. Sappiamo che qui è stata creata una breccia in un muro e quel muro era una mancanza di laicità o almeno noi cerchiamo di ricordarla in questo modo. I compagni che dicono no al giubileo dell'evasione, i radicali Roma a cui anche io appartengo, lo dicono perché hanno avuto questa breccia da parte del pontefice che ha riportato in auge questa nostra battaglia. Il valore delle nostre cose sta anche nella durata di esse e testimoniare, essere presenti, testimoniare con l'azione il fatto che la presa di Porta Pia non è soltanto un evento storico ma è un evento di liberazione del nostro paese da una occupazione e che continua questa occupazione è ancora importante per noi. Io ho sentito molto spesso in questi mesi che sui cosiddetti limiti di 12.000, e mi aggiungo alla quotidianità del nostro tematico, bisogna essere, bisogna fare il real politico, bisogna accortare i numeri che ci sono in Parlamento. Guardate che ci fu detto esattamente la stessa cosa durante la provocazione. è una data molto importante perché dopo due capitali noi riuscimmo ad avere la terza capitale, la capitale di Italia grazie a Medreo che il curante della scomunica voltò per primo le porte di questa città. Un Papa che seppe rimanere chiuso, il non expedit, il non conviene dalla politica, fino a quando poi non celebrò con il regime fascista un patto, un patto scellerato che ancora oggi si rinnova e ancora oggi noi non abbiamo più il 20 settembre come festa nazionale perché Mussolini e il Papa di allora decisero questo. In un momento in cui dalla la chiesa vengono fuori con forza dei ragionamenti, io direi questo, dei ragionamenti che sono emblematici, parlo per esempio di un tema a noi tutti noto, quello dell'otto per mille, ma la questione dei migranti con il movimento radicale tutto che ha saputo spesso anticipare e molto spesso saper condurre insieme a chiunque fosse convinto dell'obiettivo da raggiungere, Emma, sì dico Emma, scusami Rita parlava adesso di massoneria, Giordano Bruno, insomma il pensiero laico, credo che la politica attuale debba saper recepire ciò che proviene non solo da noi laici ma addirittura dal Papa. Credo quindi che l'iniziativa di andare sotto il Ministero dell'Economia e delle Finanze sia un atto politico dovuto e spero che le forze politiche sappiano non più ginuflettersi davanti a forze che non pretendono più la ginuflazione ma cercano la pace e l'armonia universale e probabilmente una giustizia che non sia solo la giustizia delle carceri ma la giustizia che possa consentire a tutti di poter essere uguali di fronte a chiunque. Liberata dai fardelli e dai privilegi materiali e politici la Chiesa può dedicarsi meglio e in modo veramente cristiano al mondo intero, può essere veramente aperta al mondo liberata dai fardelli e dai privilegi materiali e politici. Buon 20 settembre e arrivederci al prossimo anno. Ciao a tutti. Grazie a tutti.